Ciao amici d'accordo, oggi volevo proporvi una comparativa tra un cavo di alta qualità, in particolare il reference in versione nera, e il GB40 che è un trasmettitore wireless per chitarra della AKG. Con questa comparativa vorrei farvi sentire quanto fedelmente questo piccolo trasmettitore, come vedete veramente di dimensioni ridotte, riesca a riprodurre fedelmente, senza grosse perdite di segnale, soprattutto sensibili, il suono del nostro strumento, sia basso che ovviamente chitarra, perché entrambi i sistemi, sia il wireless che il cavo, sono creati apposta per questi due strumenti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.